La Costituzione non può che ringraziare la maggioranza e la quasi totalità delle richieste fatte per migliorare questo regolamento e quindi io fossi sindaco prima di andare sulla stampa a scrivere che le minoranze avevano perso un'occasione per contribuire all'approvazione di quel regolamento se oggi è cambiato delle due luna o il sindaco ha detto una stupidaggine nella stampa o è una stupidaggine che ci avete ascoltato nella modificare il regolamento. E a parte questo mi piacerebbe sapere anche perché a questo punto avete accolto le nostre richieste ma ad esempio mi faccio una ma che vale per tutte perché altrimenti parlo sempre troppo e poi non vorrei essere tacciato come il più logoroico consigliere del Consiglio Comunale. Io vorrei sapere perché prima si era deciso che le sedute non erano pubbliche e oggi si decide che sono pubbliche. A noi personalmente va bene che siano pubbliche e ringraziamo ripeto, dei suggerimenti. C'è qualcosa che non va e l'aria se non lo dico. Non è nessun problema? No, se avete avvolto quel progetto e l'avete letto prima, benissimo per carità, sempre bene dare ampia lettura sulle cose e l'argomento un po'. Però visto che siamo noi dei politici ogni volta che facciamo qualcosa facciamo delle scelte e le scelte vanno mutilate in un certo modo, magari non tutte, ma le cose più importanti. Questa che a nostro avviso è importante, adesso avete una mia idea, invece di leggerci il regolamento così come modificato, visto che le abbiamo letto, comunque ci sono le grandi richieste che avevamo fatto noi, sono state quasi totalmente accolte, almeno spiegare perché avete fatto marci indietro e avete accolto le nostre cose, soprattutto dopo l'articolo sul giornale il giorno dopo che è riuscito, nel quale si diceva che noi eravamo quelli che perdevano un'occasione di approvarlo subito. Se fosse tornato uguale, ci sarebbe stata magari la dialettica e ci stata l'opposizione di maggioranza che non la pensa uguale, e viva Dio, ognuno ragione, insomma, sulle sensibilità che l'uno ha, fa quello che ritiene più opportune. È una scelta, è una politica scelta, accontentiamo alcune compagini che non ne accontentiamo altre. La cosa è che è tutto modificato, se lo leggete, noi siamo contenti, ma non sappiamo perché. Questa non fosse giusta perché non aveva domanda, grazie. Grazie.